Wow Oh no Ciao a tutti benvenuti in questo nuovo video ragazzi Ciao Oggi sono in versione cessa patella perchè sarà compito di Gio murarmi vivo e rendermi presentabile perchè oggi facciamo quel video che andava di moda tipo 12 anni fa Ah è presente Gio? Boyfriend does my makeup C'è proprio gli albori di Youtube, è presente? Boyfriend makeup Ok Solamente che lo facciamo oggi e non 12 anni fa Vedete quanta innovazione Gio come sapete è un makeup artist quindi mi renderà particolarmente bellezzoso Spero, vero? Mi fai tipo come mi fai? Che stile mi fai? Special Special Vabbè capirò in seguito cosa vuole fare Comunque incominciamo perchè immagino che ci sia tanto da restaurare 3,2,1 Ciao Mi stai facendo la barba col correttore? Ehm 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 è finito, è stupenderrimo adesso facciamo l'altro occhio fuori camera e ci rivediamo dopo ok questi sono gli occhi finiti da entrambi i lati ora Gio dice che è arrivato il momento del shading, cioè del contouring che già mi ha fatto prima ma sempre de più e poi non lo so dire a lui cosa faremo che io non sto capendo niente, sono confuso ooooh oto un col ok Brown Hair line oto un po un po wow oh no no I'm working now Full touch è arrivato il momento del rossetto ragazzi quale rossetto useremo ah quello di kylie jenner coco coco by kylie jenner col pennellino e la pennellina attenzione le immagini successive potrebbero provocare nausea disturbi psicomotori o forti dolori dei gengivali un stop morto un momento forse potrei fare quella cosa No dai è un po' troppo trash non l'ha fatto Wow E questo è il risultato finale ragazzi Mi sento una super faica Sembra un po' Anne Hathaway Non trovate? Cioè non so Comunque niente Spero che questo risultato vi piaccia Grazie a Gio per avermi reso la super più faica del mondo E noi ci vediamo nel prossimo video Oddio non voglio più togliermi questo trucco Mi sento proprio a mio agio Guardate come faccio svolazzare bene i capelli Pizza Ciao 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 Sì, 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 sì.